E' comunque per noi più difficile. Cerchio K attraverso Marco a cura di VB, entità beata. Nel momento in cui io mi leggo ai fotogrammi di questo tempo, mi leggo ai fotogrammi di tutti i tempi, perché nel piano acasico, pur essendovi una successione di sentire, sono presenti tutte le epoche, sia pure in una successione di sentire, però sono presenti. Allora, nel momento in cui io mi leggo al vostro presente, automaticamente mi leggo al passato e al futuro. Quando io mi leggo ai fotogrammi che state vivendo voi, mi leggo simultaneamente a quelli di Lemuria, di Atlantide e della vostra, nostra razza. E' comunque per noi più difficile riportare nei vostri fotogrammi situazioni appartenenti al passato, così come è ancora più difficile farlo per il futuro, perché bisogna renderlo presente al punto tale da potervelo dire. Comunque si può anche fare, basta leggere nella luce astrale e si vede. Sai che in questa si può vedere il passato e il futuro, come i veggenti di fatto fanno, e come loro, con maggiore plasticità, possiamo fare noi.